Il 10 marzo di un anno fa ci lasciava Italo Corai, personaggio veramente incredibile, scrittore, insegnante, intellettuale, politico fine, persona che non ebbe paura di, proprio con i sottoscritti in una trasmissione del 1982 dagli studi di Via Caboto, insieme allora a Professor Tirelli, a dire che bisognava stare attenti e quando c'erano dei rapporti omosessuali bisognava usare il preservativo perché a quel tempo già si iniziava a parlare di IDS. Un grande uomo e, diciamo così, una grande mancanza. Stefano Santarossa, Presidente Radicali Friulani. Sì, un grande anche militante dei diritti civili, militante del Partito Radicale, fin dai primi anni 70, quando il Partito Radicale aprì le porte agli omosessuali e Italo fu proprio uno dei fondatori del fuori, che prima ancora dell'Arcigay si occupava di questi temi. E riflettevo proprio oggi, da un anno della scomparsa di Italo, rispetto alle posizioni uscite da Alfano. Oggi il segretario, coordinatore nazionale del PDL, ha dichiarato che lo zapaterismo è un germe che rischia di attaccare i valori che noi difendiamo, come abbiamo fatto sul DL, il diritto legge su Eluano Anglaro, la difesa della vita sin da concepimento, oppure i tanti no che abbiamo detto sullo scardinare della famiglia. Se la sinistra andrà al governo, farà quello che hanno fatto in Spagna, il matrimonio tra uomini, le coppie di fatto. Mi dispiace ricordare ad Alfano che le norme su regolamentare le coppie di fatto tra omosessuali, in Spagna l'ha fatto a SNAR, che è del centro-destra. La situazione italiana è del tutto anomala e sembra che Alfano voglia accrescere lo spread sui diritti civili che esiste tra l'Italia e il resto d'Europa. Se davvero questa è la posizione di Alfano, Alfano sembra più giovanardi, sembra l'almirante degli anni 70 che era contrario all'aborto, a regolamentare l'aborto, a regolamentare il divorzio, quindi davvero un passo indietro. Se questa è la linea del nuovo coordinatore nazionale del Pdl, non ci siamo, allora sì che servono le persone come Italo Corai, che nel 2012, ancora oggi, vediamo questo Paese non in grado di affrontare temi come i diritti civili, e come tutto ciò per cui ha lottato, nella sua lunga militanza radicale, Italo Corai. Grazie Stefano Santarossa, il Presidente dei Radicali Friulani.